Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. È avvenuto ieri un grave incidente sulla via Poirino, nelle vicinanze di Carmagnola, quasi al confine con Poirino. Due vetture, entrambe Fiat Panda, e un camion sono stati coinvolti in un violento scontro. Purtroppo, Rosanna Gianoglio, una donna di 60 anni residente a Ceresole d'Alba, nella provincia di Cuneo, ha perso la vita immediatamente. La signora stava recandosi a trovare sua anziana madre e si trovava in una delle vetture coinvolte nell'incidente. Fortunatamente, altri presenti hanno riportato ferite, ma nessuna in modo grave. Sul luogo sono intervenuti prontamente i soccorritori, la polizia locale per investigare sulla dinamica dell'accaduto e i vigili del fuoco provenienti da Carmagnola e Torino Lingotto. È stato necessario chiudere la strada temporaneamente per consentire agli operatori di soccorso di prestare assistenza alle persone coinvolte, rimuovere la signora e trasportare via le vetture e il camion coinvolti nell'incidente. In questo momento di profonda tristezza, esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia della povera donna, Rosanna Gianoglio. Le parole sono insufficienti per descrivere il dolore di una perdita così improvvisa. Spero che la famiglia trovi conforto nell'affetto dei propri cari e nell'unità reciproca per affrontare questo momento difficile. Le mie preghiere sono con voi.